Diciamo che i Malatesta Fano è una manifestazione ideata da Confcommercio tanti anni fa. E' stato assemblato un programma 30 giugno, primo e due luglio, molto importante, legato alla storia dei Malatesta o dei Malatesti, come si dice oggi. Ed è un evento eccezionale dal punto di vista turistico, perché Confcommercio assicurerà una grande promozione a questa manifestazione. Beh sì, è una pagina della nostra storia veramente importante, che non è solo territoriale ma direi nazionale, perché i Malatesta hanno rappresentato da Fano su fino a Bergamo e Brescia un momento importante della nostra storia. Non dimentichiamo che noi conserviamo di nostra proprietà i codici malatestiani, che sono la prima testimonianza di contabilità, fra l'altro dove abbiamo attinto anche elementi importanti, mi viene in mente il documento che attesta che nel 1347 pagavamo delle spese per il carnevale. Quindi questa presenza, queste manifestazioni, questo ritorno è importante, significa valorizzare la nostra città, significa valorizzare la nostra storia, che è un patrimonio straordinario che appartiene all'Italia, appartiene alle varie realtà e che sono un valore aggiunto. Ormai siamo giunti al decimo anno di quello che è il Palio delle Contrade, che quest'anno, in occasione appunto del decimo anniversario, ha deciso di cambiare veste, ha deciso di intanto cambiare nome. Siamo andati a ricercare nella nostra storia, negli eventi di Fano, per andare a trovare quello che è il nostro progetto. Il nostro progetto è quello di incentrare la storia malatestiana, che Fano ne è ricchissima, ha tantissima storia medievale da raccontare, e quindi abbiamo deciso appunto di rinnovare il nome e chiamare I Malatesta Fano. Grazie al Comune di Fano, alla Regione Marche e alla Confcommercio, che ci ha concesso anche la possibilità di riutilizzare questo nome, abbiamo deciso di rinnovare, oltre che il nome, anche il format. Infatti troverete, non ve lo svegliamo perché più avanti vi sveglieremo il programma, troverete grandi novità a livello di zone, che andremo a rievocare, andremo a far vivere alla città, ma anche ai turisti quella che è l'epoca medievale nella città di Fano, che è da scoprire e da approfondire sicuramente. Fondamentalmente è una grande manifestazione che richiama un periodo storico fondamentale della nostra città. Insomma, parla della famiglia Malatesti, nella quale abbiamo delle evidenze storiche eccezionali, abbiamo bisogno di raccontare bene di più la nostra storia e una manifestazione importante come questa, con un gruppo storico, diciamo che filologicamente, tra l'altro accompagnato dal Centro Studi Malatestiani anche per i costumi e per le attività che andranno a fare, ci dedicano un weekend completo con una serie di attività che toccano vari punti della nostra città e che quindi toccano Piazza 20 Settembre, ovviamente la Corte Malatestiana con delle sorprese nel San Francesco che racconteremo più avanti, con l'arricchimento della zona Pincio. Ecco, ci aiuta, aiuta le persone che saranno in visita nella nostra città a toccare tutti questi magnifici punti, evidenze storiche malatestiane della nostra città. Questa manifestazione era stata pensata ed è stata fatta proprio per creare quella fiducia e quelle potenzialità nelle attività ricettive, nell'attività del commercio, delle imprese per creare quelle economie nel territorio che per noi sono importanti e fondamentali soprattutto nel periodo estivo, quindi dare quell'impulso e quella fiducia a livello economico che, ripeto, per noi e per le nostre imprese è fondamentale, le imprese che poi noi rappresentiamo tutti i giorni.